L'attività di noi genitori non è solo di assistenza, ma anche di formazione e informazione. In questi mesi numerosi sono state le iniziative di convegni, conferenze e dibattiti, ma credo che quello che ci sarà venerdì 17 alle ore 20.45 nella sede di noi genitori in via 24 maggio sia quanto mai attuale, anche alla luce di quanto è successo con il caso Indy Gregory. Ce lo presenta questo convegno il dottor Emanuele Basile, psicologo. Perché avete scelto innanzitutto un argomento come le malattie rare, un argomento veramente importante, ecco, lo abbiamo detto alla luce anche del caso Indy. Innanzitutto grazie di questa opportunità. Abbiamo scelto questo argomento perché naturalmente in quanto malattie rare sono delle realtà assolutamente poco conosciute, un po' per la rarità. Quando noi parliamo di malattie rare in età pediatrica parliamo di un'incidenza che è intorno ai 5 pazienti su 10.000, quindi veramente con una incidenza davvero molto bassa, ma parliamo anche di un numero consistente di malattie, proprio perché le malattie rare sono state identificate circa 6-7.000 malattie rare. Quindi rare per quanto riguarda le incidenze, ma numerose per quanto riguarda il numero di persone che possono essere interessate da questa condizione. Quindi parlare di malattie rare è un aspetto importante, perché naturalmente si parla di bambini e di famiglie che sono interessate da problematiche molto importanti. Le malattie rare sono prevalentemente di natura genetica e quindi hanno una insorgenza che è in età pediatrica, quindi al di sotto dei 14 anni. Sono delle condizioni molto complesse da un punto di vista clinico, da un punto di vista terapeutico, ma anche da un punto di vista assistenziale. e quindi ci sembrava davvero importante poter organizzare un incontro di sensibilizzazione in cui si riuscisse a dare anche voce a questi bambini e alle loro famiglie. Ecco, appunto, soprattutto le loro famiglie, perché quando ci sono questi tipi di sofferenze e di fragilità le famiglie non sanno come muoversi. Assolutamente sì. Noi diciamo sempre che la disabilità non è una condizione che interessa soltanto il bambino che è interessato dalla condizione di disabilità, ma è una disabilità della famiglia. Peraltro la serata ha proprio un po' questa organizzazione, nel senso che oltre a dare spazio ad uno specialista che è il dottor Angelo Sericorni, che è il primario del reparto di pediatria della Sant'Anna di Como, che è un genetista clinico, una persona molto conosciuta e anche preparata per quanto riguarda la malattia rare, che ci aiuterà in qualche modo ad identificare un pochino meglio questo tema delle malattie rare. L'idea è stata quella di organizzare una serata in cui ci fosse anche la possibilità per i genitori, e quindi nello specifico abbiamo invitato Francesca Cappello, che è la presidente dell'Associazione Diversamente ai Genitori, proprio per aiutarci anche a capire qual è l'impatto di una condizione, quale può essere quella di una malattia rara, sulla famiglia, sulla storia dei genitori e anche sull'evoluzione che questa famiglia ha in rapporto a quelli che sono i bisogni e i problemi del bambino. Speriamo, trattandosi naturalmente di un tema anche così specifico, che possa attivare interesse, e che quindi ci possa essere una buona partecipazione, proprio perché diciamo che volendo un pochino sintetizzare per punti quelli che sono anche un po' gli obiettivi e le finalità di questa serata, da una parte chiaramente è quello di aumentare la conoscenza su quelle che sono le malattie rara, dall'altra quello di favorire una condivisione delle esperienze, quindi attraverso le testimonianze, ma anche quello di provare a sollecitare e a promuovere una comunità che sia il più possibile solidale rispetto ai bambini e alle famiglie che sono interessate da questo problema, ma più in generale rispetto a quelle che sono le condizioni di fragilità.